a volte mi chiedono in privato il perché molti corsisti di cui ho fatto vedere anche i conti ultimamente ma non solo ultimamente perché in privato ci sono state delle altre dimostrazioni su tante persone che ho fatto conoscere e tante persone che effettivamente concretamente hanno fatto vedere i risultati che dopo un corso riescono ad avere è anche determinato da quello che vediamo in grafica nel senso che noi si possiamo avere un'ottima operatività nel betting exchange possiamo conoscere tecnicamente tante cose possiamo arrivare a livello millimetrico ad avere una cultura anche sul betting exchange piacevole da avere nel tempo stesso però è importante nel palinsesto che abbiamo a disposizione vedere quali sono le opportunità molto calde che come una quota accettabile poi arrivano ad essere delle opportunità d'oro delle opportunità che se sfruttate due volte sette volte 15 volte 20 volte sì ci sarà la situazione negativa per forza di cose e quindi l'andremo ad archiviare come una situazione negativa come un'operazione negativa ma grandissima parte delle volte saranno circostanze favorevoli circostanze positive è il caso di germania under 21 contro la lettonia under 21 spagna under 21 contro la lituania under 21 già lo dico adesso prima che questo investimento vero e proprio abbia termine che sarà vincente senza grossi patemi d'animo senza grossi problemi e queste sono le circostanze che si devono cercare quindi io non devo o meglio le trovo perché ho delle conoscenze di un certo tipo e quindi quando noi abbiamo la mente dinamica la testa dinamica per andare a vedere tante circostanze differenti sia nel betting che nel betting exchange andiamo anche a vedere questo tipo di opportunità molto rilevante che si è manifestata quest'oggi e per chi ha visto il primo tempo tra germania under 21 e lettonia under 21 ha visto veramente quello che sto dicendo in questo video delle opportunità d'oro con degli errori madornali da parte della lettonia tante occasioni per la germania i primi due gol parlano da soli fondamentalmente su quello che effettivamente si è poi sviluppato in questo match specifico ma lo stesso più o meno vedremo in spagna lituania oltre questo poi negli under 21 nelle nazionali under 21 c'è la grande voglia di mettersi in mostra anche nelle qualificazioni agli europei come in questa circostanza e quindi un gol in queste partite vuol dire tanta roba un assist vuol dire tanta roba il giocare in un certo modo vuol dire tanta roba non è come nelle nazionali maggiori dove talvolta alcune partite alcune nazionali importanti le prendono sotto gamba in questo caso non accade accade tutt'altro ossia che le nazionali come la germania come la spagna come l'inghilterra ad esempio hanno una frenesia una voglia una carica di segnare di far vedere quello che sono e mettersi in mostra che quando arrivano a giocare con avversari notevolmente più deboli facciamo conto che nell'esito finale non lo faccio vedere ma nell'esito finale germania lettonia è la data 1 e 0 1 1 0 2 più o meno lo stesso tra spagna e lituania inghilterra andorra non c'era neppure la quotazione per l'inghilterra questo per fare un punto sulle partite calde dell'under 21 quest'oggi che si potevano prendere in considerazione non sull'esito finale perché ovviamente abbiamo poco margine sì con un certo protocollo anche quote a 1 0 1 1 0 2 1 0 3 possono essere prese in esame ma se abbiamo un'opportunità una circostanza più golosa ci andiamo a prendere quella circostanza più golosa germania under 21 lettonia under 21 tanto per fare un esempio avevamo il metro di paragone con germania under 21 san marino under 21 più o meno il risultato è lo stesso più o meno il decorso del match è lo stesso praticamente bastava prendere come punto di riferimento san marino che non è molto distante dalla lettonia come livello tecnico e il gioco tra virgolette era fatto e quindi andiamo un attimino a dosare di più ovviamente quindi la vittoria della germania è assolutamente ultra scontata la vittoria della spagna è ultra scontata potremmo mettere insieme germania esito finale e spagna esito finale però avremo una quota di 1 0 4 1 0 5 mentre arrivando ad operare anche sul primo tempo difficilmente molto difficilmente vedremo una spagna sullo 0 a 0 o addirittura sull'1 a 1 contro la lituania a primo tempo la germania dopo i primi 20 minuti con la massima tranquillità ha fatto due gol nel giro di breve tempo e poi la gara è andata assolutamente in scioltezza e quindi le opportunità quindi come si fa a raddoppiare, a triplicare il conto oltre che l'esperienza, la professionalità, la conoscenza anche lo sfruttare le occasioni, le circostanze che ci sono di volta in volta questo video lo pubblicherò tra poco prima della conclusione del primo tempo tra Spagna under 21 e Lituania under 21 proprio per far passare questo concetto quando abbiamo le idee chiare, la conoscenza e sappiamo quello che dobbiamo fare non c'è nulla di cui temere e quindi questa è un'operazione importante è un'operazione di un certo tipo, di un certo peso che ci dà il mercato e ci dà l'opportunità di arrivare poi a farne 5, 6, 10, 12, 15 avremo la circostanza negativa ci sarà la circostanza negativa ma mi sfido a farle tutte quante questa opportunità per vedere quante pochissime volte arriverete a perdere e questo accade molto spesso nei campionati giovanili e nelle serie inferiori come la serie C italiana come la tercera divisione in Spagna tanto per fare due esempi perché abbiamo una logica differente rispetto ai campionati più importanti e ai campionati maggiori e quindi si sfrutta a dovere quello che si può sfruttare andiamo a vedere tutto quello che ci offre il palinsesto e prendiamo il meglio specie in queste giornate dove effettivamente non c'è tantissimo oltre questo, attenzione perché nel weekend su Bet365 ci sono tante belle opportunità sulla Formula 1 e quindi andare a sfruttare il palinsesto sulla Formula 1 su Bet365 è un qualche cosa di divino basta un po' di applicazione un po' di studio ci sono le combinazioni sul podio che non perdo praticamente da due anni a questa parte che hanno delle ottime quote e anche lì con un po' di studio c'è la combinazione tac vado al risultato quindi mi invito per chi lo volesse fare ovviamente e per chi è appassionato di Formula 1 ad andare a vedere tutto quello che offre Bet365 sulla Formula 1 perché ci sono delle opportunità d'oro a quel punto si studiano le voci quindi io mi metto nei panni di Luca, Marzio, Gianluca, Roberto Giancarlo non l'ho mai fatto non ho mai operato sulla Formula 1 su Bet365 vado a vedere i mercati che ci sono mi studio quelle voci faccio uno studio specifico sulla Formula 1 e comincio o con pochissimi soldi o in un conto dimostrativo a fare degli investimenti veri e propri ne faccio 5, 7, 10 quantomeno arrivo a 10 è chiaro che sulla Formula 1 c'è un gran premio ogni due settimane mediamente parlando e quindi non posso fare troppi test ma già un 7, 10 test o magari con un piccolo capitale quindi opero con pochi soldi comincio a vedere dei risultati e non vado a vedere la quota in sé ma vado a vedere quella quota quanto mi può dare nel medio periodo perché anche una quota 1,20 se poi arrivo ad avere 28 risultati vincenti su 30 è una quotona quindi dipende anche da il tipo di situazione che si va a creare questo è quanto quindi spero di essere stato abbastanza chiaro mente dinamica mente lucida andiamo a vedere tutto quello che ci offre il mercato perché c'è veramente tanto che non viene sfruttato che ci offre il mercato che ci offre un po' che ci offre un po'